yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui insieme a taz che ci porta la sua deck profile di dragon link esattamente perché dragon link perché è l'unico mazzo che so giocare ed è il best deck è vero è l'unico mazzo che so giocare ho portato questo deck a un local e all'ots di ancona all'ots sono arrivato quarto e al no no scherzo al local sono arrivato 4 no all'ots fatto schifo fatto 33 ragazzi ho fatto più schifo dell'occhio quanto è fatto siamo alla profile gioco due rocket solamente esco due rocket tracer poi gioco due recharger due perché aspetti e vabbè questo reparto rock gioco due recharger perché serve sempre secondo me anche portarlo di qui che è sempre forte poi magari se non c'è la normal questo deck bricca un sacco capia sempre o questa o questa in mano come come minimo la trovo la trovo un sacco forte invece un altro livello quarto 4 poi ovviamente le trappoline cioè le terreno le tre rapide dove spiegare anche gli effetti però potresti spiegare anche perché di determinate scelte questo è il reparto standard cioè questo è il reparto standard tranne questo qua che ok io non gioco dragon link non lo so per reparto bistial gioco 3 lubelion 3 perché c'ho i soldi però non c'ho i soldi comunque gioco 3 lubelion perché so forti sono sempre buoni te li puoi cerciare con caos con caos pace e magnamut sta carta è fortissima gioco 3 magnamut perché ti portano qualsiasi carta trago ovviamente fine turno di solito o porti druidurma e vabbè se lo sendi al cimi ti senda uno e oppure porti due all'evenir o tanto meglio emperor poi come ultimo bistial gioco saranir 1 perché te manda alla magia continua e niente poi te lo puoi mandare anche dico la drago e fai cose divertenti puoi mandare anche anche un lubelion quindi lo puoi ricalare poi vabbè queste due questa è fortissima vince il match up contro flander se riuscite a non beccarvi shifter e adesso tre fisher e un macrocosmo e come fai adesso contro il fissure e macrocosmo non giochi trago link non compratelo è il motivo giusto per iniziare a prendere la commedia e tanto tanto me lo becco tra il flander c'è quel pezzo e merdo di kree che tanto lo giochi vabbè come reparto caos come ho fatto per prima emperor e leianir poi gioco i due fratellini sta carta ce la vuoi sempre in mano insieme a caos pace la carta è fortissima rigorosamente in tedesco caos è la woman si no no è uscito dal brawl di quest'anno secret in italiano stanno tipo a 3 euro e 50 l'uno però super the talk altra cosa eh è tanta no scherzo le vorrei pure io secret però non c'ho sbattito un po' c'è 180 euro sul market prima che ti un cazzotto sotto il mezzo comunque trek out space se andrà uno light te prendi uno dark o il contrario cioè che non si può evocare special che normalmente o ci prendi leianir o emperor lubelion o i due fratellini qua quindi teser c'ha parecchia roba poi ti fa rimischiare uno nel mazzo e pescare uno forte poi gioco due nocto come extender uno di solito lo side o via che magari andando second vuoi vedere più staple comunque più board breaker la carta è forte perché se ti capiva in mano fai così e niente la calia gratis ed è un più uno poi la normal più forte del mazzo che è safer che ti porta sia uno dei piccolini e hai un altro bestial in mano scarti quello oppure addirittura ti porta nocto scartando abso quindi fai triggerare sia l'effetto e abso che ti porti un più uno in mano questa la puoi mandare dal cimi riprendi un livello 8 in mano quindi lo puoi fare sia su leianir che su ah leianir non è once per turn l'effetto evocarsi quindi forte sta cosa e sia su i debissi all'ubeglia poi come ht gioco tre gamma e un driver perché se lo fai a flander se lo mette nel culo l'ho calato una volta all'ots contro un flander e gli ho spaccato shifter è stato molto divertente 3 ttt perché sono un sacco di bestial quindi è forte sta carta pure contro flander e uno spolverino richiamato gioco 43 numero de merda per l'extra gioco drago atum e sta carta sto considerando di tagliarla perché non è che va va fatte tante robe però riesce a fa full full board con dopo ve la faccio vedere un savage fruttissima la cali sempre questa per vincere sia il tempo che per rompere tutta la board comunque è un bet e una negazione secondo me è forte il reparto loro tre lui è forte in tedesco più più di quello in italiano chiusi quello secret da roda esatto eh spera se è secret no è vero quello col da tedesco è più forte fa mille danni in più non come quello prismatico è quello prismatico tedesco lui lo fai spesso anche sotto riesce a fare anche borderland più lui e otk sicuro a dark non l'ho giocato ho giocato barone prestato da non ti ho prestato barone è importante bene ho giocato barone che sta carta è forte l'ho giocata l'ho tirato una volta contro di lui e ho vinto e non l'ho visto dark ruler eh e non l'ho visto dark ruler poi la carta più forte del deck che può attaccare chiunque c'ha negate non può essere targhettata non può essere distrutta ma se tu mi conosciuta e mica guarda si si ma che ne so io poi c'è tribor boost per la combo con con pisti quindi magari linki due fa ebana però sta carta carina cioè non fan cazzo serve soltanto per la combo come lui lui fa schifo però se vuoi ci puoi fare robe carine lui forte lo puoi fare in combo con lui te lo spacchi e riavuchi due rocket e riavuchi lui pisti riavuca uno da bannato da grey palle palle fai sempre perché è fortissima te porta magnamut oppure ti porta un rocket un druidur quello che te pare più che altro è forte per l'imbalzo striker e romolo incredibile hai venduto talmente bene il mazzo che non lo monterò mai più e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto so che lui non è bravo come gli altri però gli si dà una possibilità prossima volta aggiornerà il dragon link o monterà qualcos'altro forse sì esattamente se vuoi scambiarlo per dragon maid c'è no aggiungo uno pronto no detto questo vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da magic corner quindi se vi servono carte singole o prodotto sigillato trovate il link del loro store qua sotto in descrizione detto questo ragazzi state me easy e noi ci rivediamo settimana prossima o in settimana dipende se ci voglio di montare sempre qua con un nuovo video ciao a tutti